No, questa, secondo me c'è messo un pomeriggio di posa, un pomeriggio di posa, con i fru... Nascosta dietro un cartello di Santa Severa, ma tu ce l'hai sui telefonino in miei foto? Ma tu hai fatto fare i poster di questo? Alla stessa del parchetto stiamo facendo una sola riunione. Una cosa così, secondo me è stato un pomeriggio di posa, con i pari... Ma cosa? No, vabbè, ciao ragazzi, ma almeno ditemelo alle spalle, non davanti. Poi un orecchio... Che non stiamo dicendo alle spalle? Ma sto sentita, scusate. Guarda, è bravissimo, non cambia neanche il caso pensiero, scusate. Ma che è in scelta? Altro grigio di piede. Ma ragazzi, imbarazzante. Ma vado. Comimbarazzante. Signorini, guarda. È un pomeriggio, ci avete messo un pomeriggio? Allora, dove vai? Gli dia pure il caffè? Grazie a Ciro. Adesso ho detto, vado. Ma non lo so, ma io me ne vado. Lo pagherebbe per avere una foto del genere. La consacrazione. E poi c'era il mio figlio di spalle, hanno anche dubitato. Non sai chi era questo? Pronto? Non c'era il mio figlio di spalle. Non c'era il mio figlio di spalle. Da qualsiasi? 16 anni. Però il più alto di me che non ci vuole tanto. Ma poi ci vuole un abbraccio. No, è un fatto di via. E adesso c'è la commissione. C'è un tavolo nazionale. Da sempre io conduco una attività in interrotto di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Un monsieur attendee, au café du palais, devant un tante bonnet, la fameux qu'il aimait, la pendule tourènet, les mouches voulaient, et toujours le monsieur attendee. Grazie. Grazie.